Dopo 20 giorni di sospensione dei lavori sulla 14 per evitare di congestionare l'autostrada in vista degli spostamenti per le festività natalizie, da domani operai e mezzi torneranno operativi su tutti i tratti autostradali cantierizzati. Restringimenti e deviazioni riprenderanno a complicare la viabilità di automobilisti e autotrasportatori per consentire gli interventi sui viadotti e nelle gallerie con le inevitabili code che congestioneranno il traffico anche sulle arterie viarie alternative al percorso autostradale. I cantiari sulla 14 interesseranno in particolare la galleria Colle Marino Nord tra Atri, Peneto e Roseto degli Abruzzi e i viadotti Cerrano Sud e Marinelli in direzione nord. Tra Pescara Sud, Francavilla e Vasto Sud dove la viabilità è appesantita anche a causa della chiusura della galleria San Silvestro della circonvallazione che collega Pescara e Francavilla al mare torneranno operativi i cantieri per attività di manutenzione ordinaria. Chi dovrà mettersi in viaggio dovrà dunque armarsi di pazienza per affrontare rallentamenti e code. Tra i più penalizzati gli autotrasportatori che dell'autostrada proprio non possono fare a meno come spiega Luciana Ferrone presidente della commissione trasporti e logistica della camera di commercio di Chieti Pescara. Purtroppo ricominciamo le dolenti note ci ritroviamo di nuovo alle solite storie anche a livello locale questa galleria di San Silvestro crea notevoli disagi lo sappiamo ma il disagio più enorme lo troviamo perché è una cosa che interessa tutta la regione ma non solo. Sembra che non ci sia soluzione o che nessuno voglia trovare una soluzione. Io ho prospettato una soluzione ci sarà un convegno ci sarà un incontro con Union Trasporti la prossima settimana nella sede camerale della camera di commercio di Chieti Pescara proprio per discutere di questa problematica perché ora che noi affrontiamo seriamente al di là delle fazioni politiche questa problematica che sta veramente mettendo in ginocchio una categoria perché noi non possiamo immaginare di rimanere imbottigliati due ore lungo una strada per raggiungere una qualsiasi località quindi io avevo già prospettato l'idea che la soluzione poteva essere un'autostrada ferrata quindi un pezzo di ferrovia che trasporti che metta su rotaie tutti i mezzi pesanti questo significa un grosso snellimento un'autostrada dove non circolano o per lo meno circolano una piccolissima parte dei mezzi pesanti significa alleggerire il traffico cerchiamo di capire come e chi è disposto e quali forze politiche sono disposte ad intervenire su questa seria seria problematica la scelta di un'autostrada ferrata dedicata al trasporto e alla logistica risponderebbe anche all'esigenza di riduzione dell'inquinamento atmosferico contribuendo a immettere meno co2 nell'atmosfera risolviamo un problema e cominciamo anche noi da qui a parlare di transizione energetica a parlare di strada ferrata come si parla dappertutto ormai in europa e nel mondo e magari ci rendiamo conto che è molto meglio che anche gli autisti fanno dei tratti stradali inferiori e quindi anche la categoria è meno penalizzata ci sono meno ore di guida ci sono meno incidenti meno rischi per tutti insomma un quadro sicuramente migliorativo rispetto a quello che è oggi la situazione autostradale e infrastrutturale in genere del nostro territorio